Nuova operazione antidroga dei baschi verdi del comando provinciale della Guardia di Finanza di Sassari che hanno smantellato una centrale di spaccio a Valle Doria in cui si rifornivano i clienti del paese e dell'Interland. Manette è finito un giovane del posto di 23 anni. Le indagini condotte dalle fiamme gialle che in questi ultimi mesi hanno dato una stretta al traffico e allo spaccio di stupefacenti a Sassari nel territorio circostante è andata a concentrarsi sull'attività che si svolgeva in un'anonima villetta di Valle Doria in cui era stato registrato un viavai di persone segnalate come consumatori stupefacenti. Ieri sera i finanzieri dopo aver notato uscire il 23enne dall'edificio con a seguito un cliente hanno deciso di intervenire. Il giovane ha tentato una breve fuga ma è stato bloccato dai militari. Il 23enne ha cercato di disfarsi di un involucro di stagnola contenente maliuane e cocaina che è stato recuperato dalle fiamme gialle. I baschi verdi hanno quindi proceduto alla perquisizione dell'edificio che ha consentito di ritrovare sul piano di lavoro della cucina 50 dosi di cocaina pronte per lo spaccio, 20 pacchetti da 5-10 grammi di maliuana oltre a sostanze per il taglio e il bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi. I finanzieri hanno anche trovato 3.000 euro in contanti che si ritiene siano frutto dell'attività di spaccio. Dopo le formalità di rito il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre sono le volte delle vittorie questa effettua giudiziaria, dovuta leardi la vostra. È sempre il processo della cuore del titolo. Ma quasi qualche tempo si avateamız.